No, 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 lei darebbe... No, 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 lei darebbe... Buca! No, no, no! Ragazzi, volete diventare youtuber professionali? Bravi nell'editing? Siete fortunati, oggi voglio parlare di Filmora. Filmora ti mette a disposizione tantissimi plugin per editare i vostri video. Filmora rende possibile il montaggio in modo così veloce e semplice, anche non conoscendo benissimo il mondo dell'editing, a tantissimi effetti come motion tracking, transizioni e molto altro. In più delle modalità che dovete per forza provare è la picture in picture, la registrazione dello schermo, che sì, con Filmora potete anche registrare lo schermo, e lo split screen. Quindi ragazzi, che dire, provate per forza Filmora, lo dovete per forza provare, dai. Per chi vuole montare video, questo è il momento giusto per farlo. Quindi cliccate il link in descrizione e acquistate Filmora, prezzi bassissimi. Non vi ho convinto? Bene, Filmora ha anche una versione gratuita, con le stessissime funzionalità, con una sola differenza, che in basso a destra c'è una piccola filigrana con il logo di Filmora, quasi non si nota. Quindi, se non siete convinti di acquistare o meno Filmora, provate prima una versione gratuita, se vi piace, fate la procredd a quella a pagamento. Io vi lascio il video. Tom YouTube, ci sei? E ciao, ho fallito. E ciao, come stai? Come stai, fallito da merda, come stai? Come stai? Come stai? Anche oggi sveglio, eh? Come stai? Vuole scambiare? Sono le 11 di sera, quindi sembra logico che una persona sia scambiato. Va bene, va bene, va bene. È abbastanza tardi per fare i coglioni, eh? Va bene, dai, forza, che vuole scambiare. Io infatti non voglio fare il coglione, un trucco, vuole solamente a scambiare. Va bene, allora faccia in serio e scambiamo dai forza. E poi, vai, vai, forza, 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 forza. Dove vuole andare, vuole andare, faccio, faccio. Nel culo di tua madre, sinceramente, però, perché... Ma quello è già occupato, mi dispiace, da quello è già occupato. Da tipo 3 e nero è occupato, però va bene, dai. Mi dispiace, la milione ero non è abbastanza occupato, questa. Del cosa? Lei, 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 che cosa vuole scambiare? Allora, io tengo tante armi, partiamo da questa cosa. Quante con quell'arma che ho io, già questa qua deve farle capire tante cose, eh? Tante cose. Che se non sei, ma... Che vuoi bruciare gli ebrei? Mi dissocio. No, che voglio bruciare il culo di tua madre, no, mi dissocio, eh, 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 vabbè, dai, mi faccia tutto, mi faccia tutto, mi faccia tutto. Io ci metto il tabasco, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma. Vabbè, io ci metto qualcos'altro, dai, 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 allora, mi faccia vedere le armi, per favore. Vabbè, che ci metti, che ci metti, posso sapere, ho curioso. Io non droppo nulla se tu prima non droppi qualcosa. No, ma io ti ho chiesto cosa mettevi nel culo di mia madre. Ah, dillo all'arma che sta bruciando in questo momento. È un ebreo quella? Mi dissocio. Voglio un'arma. No, dai colore, penso che potrei capire che cos'è. Dai, metti quegli armi di merda a lui, tu ho fallito di merda. Che devo mettere? Metti tua madre fallito lì. E a me non si può droppare mia madre, cioè, mica in arma. Te l'ha droppo io se me la presti, mettilo lì. Cosa, cosa? Metti qualche arma lì, metti. Ti amma, mamma. Fallito di merda, forza che tardi che devi andare a dormire, fallito di merda. Mi fallite non dormo. Eh, allora ti faccio dormire. Ti faccio andare a dormire, a piangere. Le ho trovati durante una gita. Questa gita era situata in un buco enorme. Ti stava accompagnando tua mamma in quel buco, vero? Beh, non lo so, cioè, non penso. Ah, quanto lo sapevo io, mamma mia. Il buco era quello di tua madre, per questo. Ah, credo che ci assomigliava tantissimo a quello tuo. Infatti non vedi come sporco di merda, sto coso? Forse è un po' più largo. E ci ha fatto di un'antica sostanza chiamata. Perché tua madre mi ha sporcato tutte le armi? Potresti dire di lavarsi il culo, forse veramente, grazie. Mamma mia. Devi, devi, devi doppare le armi, per favore. Che cosa? Dopo le armi, fallito di merda. Fammi vedere quelle armi. Ti, queste qua, rimettici nel culo di tua madre. A posta? Tu cosa? Va bene, va bene. Allora, io, io, io le avvo, io le vorrei, ma se lei non mi dà permessi, io non le troppo nulla. Ma perché questa voglia di macchi violenti, posso saperlo? Ma, ma, di sera, uno che vuoi si deve avere, mi scusi, mi, 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 mi. Io di sera c'era una voce bellissima da cantante nato. Mi dà permessi, mi dà permessi, mi dà permessi. Facciamo il suo scambio del cuore che poi devo andare. Allora, dai, 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 dai. Io non devo andare. E tu, 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 devi andare. Io sono un bad boy, dormo alle quattro, ok? Eh, io dormo alle otto fino a di domani mattina, mi faccia vedere le armi. Dai, mi faccia vedere le armi. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo, 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 eccolo. Ok, ok, perfetto, perfetto, avete permessi, avete permessi così, scambiamo e andiamo. Ma cosa lì, derromata, alla fine ci parti le canne, chi sta? Ti, avete permesso. Te ne fai fu le canne di sera, voi. Ti, ti, ma, ma. Che effetto, qua, che car... Vabbè, ok. Allora, il muro si è aperto, io la corsa automatica. Non sono, non sono come i bimbetti 011 che fottito, ok? Io sono, allora, io, 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 avevo la corsa automatica, avevo la corsa automatica. Io sono una persona seria che vuole scambiare seriamente, che una persona seria. E tu non sei il mio, oppure, io, oppure, io, oppure, io. Nella persona seria e ne vuoi scambiare seriamente, quindi. Oh, sì, 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 sì. Oh, un barastagna, porca. va bene va bene ma fa partì no 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 sono seri sono seri ora e lei vi deve piacere quelle armi di merda per favore bellissimi con le armi di merda perché so sporchi di merda perché tua madre non si lava il culo esattamente con le armi e tu hai idem quindi per favore a posto di dimetterti con quella testa che fai i suoi giudici si diste con quel capito di merda ma non sa una cosa al calma ripeti le parole ripeti la frase così che la dici meglio che perché sennò se no mai a scuola studio che in il libro tu avere libro lì dai fallito di merda me fa come parla ma proprio faccia vedere le armi per favore ancora costa e rivestero le 20 lei per favore non lo so mi hai scricato il cerchio mi aveva scricato il cerchio mi scusi non vuoi troppare il cerchio era andato un po come per i cazzi suoi mi scusi dai le mette a terra le armi per favore metto facciamo così i permessi e dopo che aspetta aspetta allora mi ascolti adesso io troppo poi tu troppi appena finito il pari tutto il permesso così che tu apri scambiamo seriamente ok grazie io ti spiega una cosa io gioco sto gioco sto gioco da tre anni e non mi porti grazie e io ho fatto io ama forte leggendaria qua votare io non dare a terra fuori ora essere tardi io c'è bello andare fumo è quindi per favore dalle puoi parlare bene per piacere ok dalle permessi legale per me no o parlo è buono prodotto cance ok però lei deve dare permessi per favore che mi deve dare mi puoi dare i permessi mi puoi dare lui permesso per favore mi puoi dare i permessi per favore magari puoi dare lì permesso pare arma per favore ma troppa l'arma papa pure il fallito di me lo voglio non lo dato che questa è la mamma dataydd ora prendere per dare permessi per contato da di che messi adesso vi dà gli anni per tari permessi per farlo non voglio di dare per eh no 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 lei cadete il nodo se mi dava più minco addorzio sul punto a mai del punto l'egare per essi posto dare votare per me se Dammi l'arma, dammi l'arma No, aspetta, aspetta Adesso ti spiego una cosa Dammi l'arma fallito di merda Mi fai parlare, mi fai parlare Tom, per piacere Muoviti perché io puoi andare a dormire Mi spieghi perché prima parlavi bene Adesso parli in ceramai Perché ora si è fatto tardi Ok, questa qua, ok Adesso si spiega una volta Io ti troppo quest'arma, ok? Sì, io sì Tu in cambio di questa mia vita devi dare altre 5 Capito? Ma se lei è appena dato preso tutto lì Un'arma giù Ma lei si è appreso lì, dare tutto lì No, ti prego, mani da lì, non capisco un altro cazzo Allora, io Lei avere preso mia arma lì Dove? Dove la giù E là E io infatti ti ho fatto E sì, sì, ti ha rubato l'arma Adesso io ti do la tua arma E tu mi dà altre 4 armi perché voglio restare Ma perché io dare l'armi se tu la vede già mia? Perché quest'arma qua è montata, no? Vale Tu mi dai 4 armi e tuo piacimento Io ti do questo Se lei fottere di nuovo Io fottere il suo culo di sua madre Troppa E devo droppare E devo droppare Il crocaggio dell'arma Devo droppare ti armi Tu prova a fottere ancora armi Io fotteremo Ma ti mi pare che ti pote so serio Ok Vedo qualcos'altro qua Perché se Lei prova a fottere altre armi E io il fottere il suo culo Sennò qua io veramente Letto di troppo anche questa No no che vanno bene Vanno bene con il lavoro Ok Per riprendere questo Ma dove c***o sono armi qui Di alarmi Sì scomparse Non ti ha detto Fallito Dei Stanno 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 Possiamo Dozzare Possono Ma possono Fallito Di merda Io stavo troppando armi E tu le pelle No vabbè Di alarmi perché si gli occhiavo No no su io che ho su Tutto E quelle armi mia per favore Ecco a voi Non ti stavo sentendo Stavo senza cuffio Che ho fatto Su 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 Armi Su Armi Su Armi Ah Vuoi le armi Sì 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 Lei dare armi Ah Aspetta Ce le Sì sì Subito Subito Yeah Accoccia Bobby Accoccia Bobby No 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 Parte meccanica di sua madre Accoccia Bobby No 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 Bobby Bobby mi senti Bobby mi senti No 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 Bobby tua madre Dammi Dammi le armi Bobby ma lo sai quando è Pasqua Dammi le armi L'uomo di Pasqua Te ho zicco nel culo Fallito di merda Dammi le armi Eh no Sai nell'uomo di Pasqua cosa c'è Tua madre Sorpresa Ragazzi Se volete diventare ricchi su fortnite Braga su salve il mondo Volete salire di livello su salve il mondo Non c'è un problema C'è alle game in descrizione Su alle game potete trovare account per fortnite Skin Armi Di tutto Potete perfino Acquistare le missioni Dei ranghi alti di salve il mondo Di potenza massima Vi aiuteranno a svolgere le vostre missioni Avete più difficoltà Potrete acquistare il pacchie Xmother Per incontrarvi Ad esempio Crediti per FIFA Sembra di giocare a FIFA Rocket League E se pensate che la vostra base sia brutta Non vi preoccupate C'è alle game Dove potete costruire delle vere e proprie O predarti Nella vostra base Quindi Acquistate E se pensate che la vostra base sia brutta